oh ma io la fama metto un intro giusta ancora una volta ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio che ero in 02 e anche tra i ragazzi io oggi siamo qui in compagnia di molte età comunque ragazzi oggi siamo din don comunicazione di servizio volevo informarvi che il 17 aprile sarò presente al centro commerciale la scaglia a civita vecchia nel pomeriggio per il mio primo evento e per tutti coloro che acquisteranno il web star magazine di aprile avranno la possibilità di saltare la fila e salire per primi sul palco per tutti coloro che volessero acquistare il web star magazine direttamente del centro commerciale lo possono fare da euronix se volete portarmi qualche regalino beh questa è l'occasione giusta per darmi il vostro pensierino anche un pacchetto di biscotti va bene detto questo niente buona continuazione di questo bellissimo video anche se è un po' brutto perché c'è stata no no vabbè scherzo ciao per fare la prova a non cringiare con alcuni video degli youtubers quindi anche nostri anche se adesso non siamo a divenire youtubers però l'abbiamo inserito lo stesso per compassione comunque ragazzi per questo rilaggiamo i 20 like e niente ciao via via madonna questa è la tua fatta questa ah si si ah si per vuoi tu del pro del pro del pro ma ti dicono che ti dà uno che faccio pericolo non puoi essere il primo video no non è il primo perché non fa più così oh dio quindi tagli parla di tutto trozzate trozzate è mica questo ma stai in grado si ma quanti anni fai? e su questo nuovo canale farò challenge di arrivari come si fa? vabbè non so non so non so non so non so non so stava ridendo perché gli dà la cacqua chi è? ah lei mi ha dimmi da miglia c'è la gamba stava malissimo ma buongiorno ma buongiorno è come stava ma buongiorno non so non so non so ti prego io stavo molto in giro guarda c'è una guarda la tua oggi c'è una bassa la provo oh mio dio provate i misciali dove? non ci neanche guarda la mia camera come può fare? oddio pare quel pokemon non mi viene il nome no guarda che schifo ragazzi guarda che schifo guarda che schifo ma non solo dentro te le casse schifo ma io che schifo a me a me a me madonna ahahah 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 c'è il fatto dovevano le disbattie io le dole no 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 diti ssss 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 proviamo una dite io 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 ssss 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 ss ssss cosa ancora papà sì l'informazione è qua sì il musee sajon musee sajon no ma 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 mi ma ma Margarita dai, Margarita, chiamala un glanzia, chiamala un glanzia Ho rotto tutto, abbiamo rotto tutto E' come una schiera? Che cosa è successo? Margarita, Margarita, vieni veloce, vai, dai vieni in su Che cazzo? Che cazzo? Papà dai, è conciente Oh mio Dio, basta sui test, chiamolo Oh no, è stato un po' Oddio no, che chiede Una copia Che carini Dove deve essere una cosa seria No vabbè Montavo comunque in merda Ma dove? Dai, portati i vestiti Vabbè C'è di Gianna, Gianna Ma dove è questa? Si, si è cambiato Mi fai vedere Fine Un infanato E' lì Arriva Che amore Maria Sole togli No No Ciao 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 Ciao